Alla partita in questa finale, in questa ultima gara di oggi, forza ragazzi, divertiteli! Allora, campana dal prossimo giro eliminazione singola, c'è tutto fino al nero! Numero 3, fermarsi, grazie! Numero 42, seconda punizione, va esistita! Numero 42, fermarsi, grazie! Numero 4, 2! Numero 89, fermarsi, grazie! Non si può ragazzi, non attraversate il pisco, aspettate un attimo! Con cadenza che arrabbia, non si può raggiungere! Numero 86, fermarsi, grazie! numero 96 numero 56 numero 76 numero 118 numero 15 numero 16 numero 54 5-4 fermarsi grazie 5-4 fermarsi grazie numero 5-4 fermarsi grazie numero 6-4 fermarsi numero 47 numero 5-4 fermarsi numero 5-4 fermarsi grazie 1-1-7 numero 4-1-8-3 fermarsi numero 8-4 fermarsi numero 5-4 fermarsi grazie Numero 49, fermarsi, grazie. Adesso, ultima eliminazione, poi è il risultato finale. Adesso, forza. Andiamo con la campana, campana ultimo giro. 112, fermarsi, grazie. Questa è la finale. Il due corso, non è che sta per finire questo Pasquetta 2004. Andiamo, cune, in prima posizione, numero 50. Mattia, c'è anche il suo contatto. Vincere, e fa anche gli altri. Bellissimo.